Sono stati notati dai militari delle stazioni di Pozzallo e Marina di Modica mentre camminavano a piedi e si soffermavano in una piazza del centro cittadino, luogo di ritrovo di molti giovani, tenendo un atteggiamento sospetto. Dopo averli pedinati, avendo intuito che i due soggetti stavano conviento dei movimenti strani, i carabinieri li hanno fermati e sottoposti a perquisizione personale. Il 22enne pozzallese, Biaggio Giugno, è stato così trovato in possesso di 11 dosi di marijuana, dal peso complessivo di circa 5 grammi, confezionate in cellofane nascoste all'interno di un porta sigarette. Il giovane aveva con sé anche alcune banconote di piccolo taglio ritenute provento dell'attività di spaccio. Anche un sedicenne è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina per un peso totale di circa 50 grammi, un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza e circa 80 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dello spaccio. Dunque i carabinieri hanno condotto i due pusher in caserma dove Biaggio Giugno è stato dichiarato in arresto per il reato di spaccio mentre il minorenne per lo stesso reato è stato deferito in stato di libertà alla procura per i minori di Catania. I militari intanto hanno sequestrato tutto lo stupefacente che sarà successivamente inviato al laboratorio di analisi dell'ASP di Ragusa al fine di stabilirne con precisione le dosi e i guadagni che si sarebbero potuti ricavare dall'attività rispaccio.